Un viaggio in un mondo fatto di tanti piccoli oggetti, un vassoio, una teiera, un prato all'inglese ed un comodino, insomma un microcosmo fatto di piccole cose in cui Gretel si muove sbadata e rigorosa, caotica e attentissima a tenere vivo l'ordine bizzarro dei suoi oggetti fuori scala e fuori posto. Prosegue così con Gretel della Compagnia 4x4 il calendario di altre danze tutti al circo a Ponte Buriano. Sulle rive dell'Arno sono arrivate anche le scuole per poter assistere allo spettacolo tra circo contemporaneo, danza e manipolazione di oggetti. Il tessuto comprensivo Severi rinnova un sodalizio con Sosta Palmizzi, siamo molto contenti, riprendono le attività in presenza finalmente anche fuori da scuola. Quindi si sta insieme e si impara divertendosi.